...de fenomeni sulla Panura Padana, ma immediatamente proprio alla zona centrale, in quanto le nevicate continuano ad interessare la fascia per il peggioramento che poi avanzerà anche sull'Abruzzo con nevicate. Scusi volentieri, Rosera vi ha ricordato, mentre sulla I-45 i mezzi diretti al nord vengono fatti terminare per il primo medio sul versante Toscano, questo lo si apprende come modello. Grazie per le direzioni, per veicoli intraversati, questa notizia della notte tra San Giustino Umbro e Valico di Brucca Sabaria, ancora sulla Timerina.